Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su TheDaisland 2, ci troviamo sempre, ma è sbaglio sempre, tasto incredibile, a Hollywood Boulevard, sempre nel punto di spawn e andremo a recuperare un'altra chiave da un altro mob. Anche questo mob, come nel caso del precedente, se non l'avete visto sul canale trovate tutti i video, sempre qui a Hollywood Boulevard, dicevo nello stesso caso, il mob lo troverete solo una volta completata la storia principale, quindi se venite qui e non avete ancora finito la storia non lo troverete. Andiamo sempre nella metro, come nel caso del precedente video, andiamo qui giù, attenzione, non urlare, maledetta, io li odio, andiamo di qua, guardalo le dottoressa, E scatò, e scatò, e scatò, dottore, come va? Non è tanto bene, sta più a pizzetta, l'anima, ma tu che vuoi? Panico, ma che è? Che è successo? Non ti devi mettere in mezzo quando tiro le bombe però, cioè proprio no, proprio no. Aspetta, va. Mamma, che stress. Chi era? Cos'è? Cos'è successo? Ti è dissolto? Non ho capito. Tutto abbiamo finito. Andiamo di cazzo, Tony. Vieni qua. Ok, la dottoressa c'è rimasta. Vedo, va fuori te. È lo stress, chicchetto mio, lo stress. Diciamoci la verità. Una volta uccisa, ci dropperà varie parti del corpo, e la chiave cassaforte è scatò, quindi da qui dobbiamo tornare indietro. Faccio vedere il percorso. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Mamma mia, è fastidio. Eh, non urlate. Buoni, buoni. Andiamo di qua. Praticamente dall'altra parte della mappa. No, non qui. Di qua. Qui ci prendiamo un collezionabile. Pronto? La cassaforte si troverà qui. Cassaforte del personale Escaton. E all'interno troviamo soldi e questa modifica qui, folgorante a distanza superiore. Detto questo, per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima. Grazie mille e alla prossima.